allora la mostra di venezia ci sono incontri e incontri l'idea vitale come stai io sto bene sfranta che però noi ti avevamo amata in ghiaccio e adesso ti ritroviamo qui a venezia tra l'altro ci sono in sono in arretrato di un complimento volevo dirti che in ghiaccio è un ruolo pazzesco tu eri bravissima quindi è vero perché quando non è più difficile e beh questo è più complicato raccontaci un po come sei finita innanzitutto sul set di Pipo Mezza Pesa allora innanzitutto io avevo letto il libro e io stavo cercando cioè in tempi non sospetti avevi letto il libro in tempi non sospetti no mi girava intorno avevo fatto questo provino mi era piaciuto moltissimo sapevo che avevo dato delle cose che insomma solo quando si fanno certi percorsi puoi dare all'inizio erano un po ostici a prendermi nonostante il mio foggiano fosse già perfetto al provino ah si? ci tengo a dirlo e come hai fatto? hai fatto lezione di foggiano? certo uno si prepara ma poi lo sai che quando becchi l'essenza del personaggio certo ti agganci a tutto il resto e quello arriva organico certo devi studiare devi ascoltare devi avere una tua musicalità ma quando agganci l'essenza del personaggio quello viene da solo io sono per questa scuola molto mi prendono in giro che io faccio tanto Strasburger ma però anche la mamma di ghiaccio c'aveva questo questo tiro no? cioè rientrata dentro e a un certo punto è veramente rientrata dentro la vita di un'altra persona questa è la magia di questo lavoro ah si è la magia quindi Pippo a un certo punto mi avevano messo no mi avevano detto proprio di no a un certo punto perché non era abbastanza fa ma non sto scherzando questo lo tagliamo super ah ma non era abbastanza foggiana non era abbastanza non era abbastanza foggiana ma non sto scherzando il foggiano era perfetto però io in cuor mio avevo deciso che questo film l'avrei fatto dentro di me ho detto se non mi prendo non stanno sbagliando e ti è venuta la tigna? e io vado di tigna energetica vado di tigna di visualizzazione ah però tigna positiva quindi? tigna sempre positiva bello ragazzi la tigna negativa non va da nessuna parte lo ha caduto il moto del mondo e dell'universo quindi bisogna sempre essere positivi e quindi parto per la Puglia e il giorno che parto per la Puglia muore libero di Rienzo ah che era mio carissimo amico che era più che carissimo amico era un mio carissimo collega non siamo mai stati veramente amici ma io mi riconoscevo lui mi rappresentava nel maschile quello che io sono in qualche modo ma voi avete girato assieme? lui aveva fatto il mio operatore di macchina nel mio corto da regista ah pensa ah no ma beh e io sto preparando vorrei fare il mio lungo da regista e lui stavo cercando di fargli fare un ruolo e l'operatore allo stesso tempo così c'era l'operatore e quel giorno muore libero io me ne vado in Puglia proprio per la tigna in questa cosa c'era nel cuore e riaprono l'opzione per di mangi il cuore la settimana dopo c'era quel ruolo in mano cominciato a fare il lavoro bello quindi te lo sei andato a prendere proprio è che mi ha legato tanta roba questo film per me te lo sei andato a prendere che effetto ti ha fatto vederlo l'altro giorno a Venezia madre degli ossa quando si strunz una strunz proprio una strunz no è bellissimo questo film è molto bello è molto curato ci sono talenti a tutti i livelli dalla scenografia ai costumi al trucco io non ne porto naturalmente nel film perché ho scelto così e quindi ma è che effetto ti ha fatto stare lì seduta e vederlo a Venezia poi che comunque è la destinazione guarda non lo so io sarai che sono in un momento della mia vita di normalizzazione ci sono sempre cioè sto proprio nel momento di gioisci per quel che è da gioire e soffri per quel che c'è da soffrire e quindi me la godo ho giocato su red carpet ho pianto mi sono incazzata con un po' di persone non nel film assolutamente ho vissuto tutte le emozioni che potevo vivere venivo da un momento tostissimo della mia vita quindi sto partendo per un altro film di cui non posso parlare ma vabbè non capirò mai le logiche però è bellissimo quel viaggio lì poi si e poi è stato bellissimo guarda la cosa più bella di questo film al di là di tutti i colleghi l'atmosfera con cui abbiamo girato la famiglia The Murd che abbiamo creato con Pippo tutti quanti perché proprio stavamo in questa masseria in mezzo alla melma quindi l'abbiamo chiamata la famiglia di Murd non si può dire è stato il rapporto con Elo che ho creato perché per me era importante tirare fuori da questo film l'unione di due donne per te creare proprio la rete dentro e fuori dal film volevo che queste due donne fossero nella vita due donne che si sostenessero e che tendessero a volere una il brillare dell'altra e nel film rappresentassero la stessa la stessa ferita con scelte diverse perché poi l'origine di queste donne è uguale perché una sta con un boss e l'altra sta con un boss certo quella sceglie di scappare e trovando la soluzione nell'amore io non scapperò mai perché sono incastrata in quella ferita e lei pensa di scappare da un boss c'è una frase che dice lo sai che mi faceva questo che dice il nostro protagonista Francesco Badania è meraviglioso grandissimo essere umano che ha fatto un lavoro bellissimo proprio ha lottato fino all'ultimo per portare a casa questo personaggio e in un giovane io questa cosa l'ammiro tantissimo proprio e questa cosa è successa io e Leodì abbiamo creato questo dentro e fuori il set e Leodì è una bomba in questo film questo è il primo film che fa ragazzi che vi siete detti alla fine quando sono passati i titoli di coda ci siamo abbracciati abbiamo pianto ci siamo detti brava brava una all'altra che bello e adesso però quella è stata la più grande emozione che è la circolarità del viaggio che è la circolarità di questo viaggio esatto e poi adesso si arriva in sala intanto abbiamo avuto qui Francesco Di Leva Tommaso Ragno tutta la famiglia di morte esatto che ci hanno raccontato Pippo no però non è venuto Pippo la prossima volta lo becchiamo Pippo è che dobbiamo fare una parte che sta girando sì sì infatti ce l'ha scritto è pienissimo ci ha detto senti Lidia ma oggi chi sono i tuoi miti c'è ancora dei miti tu che guardi qualcosa che ti accende io ho sempre delle persone che mi ispirano innanzitutto ho dei grandi maestri ho avuto la fortuna nella vita di avere dei grandi maestri grandi maestri nella recitazione e grandi maestri spirituali io sono buddista da 33 anni e vengo penso ho incontrato il buddismo e il metodo Strasberg insieme wow a 17 anni e tre quarti ho fatto da poco 33 anni di buddismo di pratica buddista e penso che questa sia una delle più grandi fortune nella vita di una persona incontrare dei grandi maestri e seguire con umiltà questa è una cosa che io riconosco tantissimo Elodie Elodie ha avuto l'umiltà di chiedere aiuto di farsi e questo per me è la base di farsi aiutare e questa per me è la sorgente della buona fortuna e della grandiosità dell'accesso alla grandiosità e io sono una fan della grandiosità degli esseri umani tanti soli insieme illuminano il mondo è vero ma a livello di attrice invece che ti ha sempre adesso in questo momento ho Kate Blanchett che è qui anche lei genio fenomeno è oltretutto stessa scuola di studio mia quindi è veramente un'ispirazione lei è un madonna c'è un ragazzino me la amo è femmina e maschina insieme ying e yang è approfondimento è in medesimazione è coraggio è nessun giudizio assoluto sui personaggi che fa perché per me questa è una cosa quando mi dicono hai fatto una stronza terribile bene vuol dire che ho avuto una compassione pazzesca di questo essere umano che è Teresa e sei riuscito a riscontare e sono contenta di averlo fatto e dei grandi invece classici di ieri chi è che ti allora i grandi classici di donne vabbè c'è una che fa dei percorsi come da un po' che è la signora Anna con cui ho fatto un percorso di 19 anni di actor studio di smetodo dell'actor studio insieme sono 12 anni che la porto in scena non sempre ogni tanto ci rincontriamo ma la tengo in scena perché c'è sempre questa speranza che si faccia un film su di lei sarebbe giusto sarebbe una cosa buona e giusta raccontare una donna che in tempi non sospetti ha combattuto così per i diritti delle donne mamma mia Anna Magnani era Me Too prima ragazzi di cosa stiamo parlando veramente Anna Magnani ma di che stiamo a parlare direbbe lei è lei la stella sicuramente lei mi accompagna in un percorso nel passato però non me mena Anna sai serena per il lavoro sui personaggi a me piaceva Ingrid Bergman ma guarda un po' ma mi hai fatto hai fatto il dispetto però hai capito vabbè scusa però scusa ma io con i capelli tirati su ma non so dovete più a Ingrid che a lei è vero è vero però che cavolo veramente però c'è il profilo di Ingrid Bergman ma scusa ma perché devo essere scusa facciamo che se fanno sia il film sulla Bergman che su Anna Magnani chiamano l'idea vitale così stiamo a posto me sto a far vecchia ragazzi sbrigate a far sto film però sulla Magnani hai ragione perché in effetti poi se ne parla però cioè quella ha fronteggiato tutto il cinema che è tutto maschio se non si chiamava la cinema ma in Italia e in America poi è andata pure in Hollywood a vincere l'Oscar quella teneva testa a gente ragazzi che mo quelli sono tutti miti per l'amore del cielo grandissimi artisti ma quelli oggi stavano insieme a Weinstein eh certi di loro boh non si può dire sì 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 però vabbè c'era un'abitudine proprio che era c'era un'abitudine che passava boh boh così sì sì ci sono delle storie e soprattutto avevano fatto una cosa secondo me guarda questo è solo l'aspetto umano io li amo io amo i classici amo Rossellini amo Fellini amo li amo Turmonicelli lo adoro cioè veramente io amo veramente il cinema italiano veramente che ha fatto la storia lo amo però ragazzi non hanno lasciato dei successori certe volte è vero erano una congrega dei maschi mangiavano bevevano andavano donne boh io non voglio essere però era così è vero erano così sono molto più uniti i giovani da adesso ma che poi una volta era socialmente accettata come cosa l'uomo faceva quella roba lì e la donna purtroppo era così e la Giulietta Masina hanno massacrata mamma mia la povera Giulietta non c'è stava tanto con la testa ma poi l'avete vede ma non lo so ma quale donna ci sarebbe sta bella ma don incondizionatamente ma donna veramente santissima quindi se ci riflettiamo davvero senti Lidia per chiudere che spettatrice sei oggi tu ah io vedo tutto tutto io sono un onnivere a nerd ma tipo l'ultima cosa che ti ha folgorato che hai detto ah però oddio santo Dio aspetta che vedo tanta roba l'altro giorno mi sono vista un film al volo The Game The Game quello con Michael Douglas vecchio del Fincher no ragazzi io non l'avevo visto è bellissimo ma perché io non l'avevo visto quel film che c'è che è Giody Foster in The Game no non c'è Michael Douglas sicuramente c'è Michael Douglas sì 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 The Game bellissimo solo che non lo avevo visto mi era sfuggito nella vita eh sì Fincher poi ma che cos'è questa sceneggiatura ma che cos'è questo plot ma che sono questi ma quanto sono bravi come al solito davvero vabbè gli americani secondo un po' di però guarda un americano quasi indipendente poi quando parliamo di Fincher non è proprio beh sì sì lui fa lui fa corsa a sé non è il colossal di Hollywood perché quello secondo me ha ben visto il tempo suo davvero senti Lidia ti vedremo al cinema allora il 22 settembre perché esce il film di Pippo Mezzapesa in sala poi l'altro non puoi dirlo no e noi andiamo a rivedere Ghiaccio io vado anche a rivedere Ghiaccio però abbiamo un film in giro per il mondo che si chiama Le Gran Bolero diretto da Gabriele Farbro che è un giovanissimo regista ah e che ho girato durante la pandemia noi indipendentissimo proprio noi faccio un'ossessionata di donna da organi da chiesa sta andando in giro perché l'ho fatto tutto in inglese perché era diretto alla distribuzione più sul territorio americano e si chiama The Gran Bolero The Gran Bolero allora andiamo lo troviamo? sta in giro per festival in America si vede ogni tanto ci sono link che spartano allora lo cerchiamo adesso credo che sia a Los Angeles andiamo a cercare anche quello allora Lidia Vitale a Lotcorne grazie Lidia grazie grazie mille